È una delle principali vie di comunicazione del Magentino, la via Novara, la SP11 a nord di Magenta, tra Corbetta e Marcallo, da martedì sera è piantonata da due carabinieri in attesa nelle scorse ore dell'arrivo della scientifica. Infatti sul territorio di Corbetta, sotto il viadotto che oltrepassa la ferrovia, è stato ritrovato un corpo in avanzato stato di decomposizione. Il cadavere dell'uomo, di circa 60 anni, è stato ritrovato nella notte tra martedì e mercoledì. Sul caso, stanno indagando i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Il cadavere, più nel dettaglio, è stato ritrovato da un operaio dell'ANAS che stava effettuando alcuni lavori nei dintorni. È subito scattata la chiamata al 112, sul posto sono intervenuti i militari. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, per il momento non è ancora chiaro cosa abbia causato il decesso. Avvenuto però da molti giorni, cosa che lascia aperte varie ipotesi sui fatti da rilevare. Il fatto che non lontano dai resti umani visibili anche dalla strada, dagli uomini della scientifica, è stata trovata una corda appesa a un albero. La distanza tra questa e i resti ritrovati lascia ancora aperte molte ipotesi sulle cause del decesso. Accanto alla salma sono stati trovati anche i documenti del sessantenne. Secondo quanto trapelato, si tratta di un uomo di cui si erano perse le tracce alcune settimane fa.